Piace l'Italia dei giovani, in Liechtenstein servivano più reti ma la squadra si è mossa bene e il lavoro di ventura viene apprezzato a tutti i livelli e quindi il commissario tecnico può permettersi richieste come poter iniziare il campionato prima di metà agosto che in passato sarebbero state cassate senza discussione, magari proprio da chi ha condotto per decenni il sindacato dei calciatori. È sempre molto difficile mettere insieme gli interessi dei grandi club e quindi del campionato con la nazionale che ci ha sempre rimesso. Mi pare che Ventura abbia idee chiare soprattutto anche per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani. Credo che sia un momento importante per il calcio italiano perché si stanno affermando dei giovani, magari poco tempo fa non si vedeva più ormai traccia dei giovani calciatori italiani, adesso mi sembra che ci siano e Ventura mi pare che abbia le idee chiare in proposito. Amichevole con la Germania a parte, il prossimo ostacolo per il cammino dell'Italia verso i mondiali di Russia si chiama Albania, guidata dal trevigiano di Sarmede Gianni De Biasi, ormai preso dal ruolo di commissario tecnico. Ma io ti dirò che sono arrivato a un punto che sto bene anche a fare il commissario tecnico, se vedo meno i giocatori non mi spavento e cerco di adoperare il tempo, il poco tempo che ho a disposizione per lavorare al meglio e per prepararli a fare le cose che dobbiamo fare. Peccato una sconfitta così ampia e sfortunata poco prima dell'Italia. Ma è stata una partita strana, è stata una partita strana perché dopo 16 minuti siamo rimasti in 10, eravamo sull'1-0 per loro perché hanno fatto gol sul rigore e poi abbiamo avuto un'altra espulsione. A quel punto lì in 9 contro 11 è partita in pari e quindi il risultato che si spiega da solo. Con l'Italia sarà un derby? Con l'Italia sarà un derby sicuramente anche per gli albanesi, gli albanesi come seconda nazione hanno l'Italia, chiaramente la prima è la loro patria, però la maggior parte degli albanesi tifano Italia, sanno l'initaliano, sarà sicuramente una festa quella partita lì. Un'ultima cosa, un po' di invidia per Ventura dal punto di vista di poter plasmare un gruppo nuovo e giovane come quello che deve fare adesso? Ventura sicuramente ha tante possibilità perché oggi il campionato italiano per necessità mette in mostra giovani importanti o giocatori che hanno fatto bene, che si stanno rilanciando un'altra volta, vedi immobile. Ma credo che per Belotti sia la consacrazione per un giocatore che ha qualità, nello stesso tempo Verati che sta acquisendo esperienze all'estero e ha sempre la forza e la fortuna di poter contare sul gruppo storico che è quello della Juventus. Portiere e difensori credo che siano la garanzia per questa nazionale.